La mattina prima che iniziassero a ballare i gigli ho precisato che negli allestimenti bisogna stare attenti a non dimenticare di mettere l'immagine di San Giovanni Battisti quindi è lui il centro, cerchiamo di farci sempre onore e soprattutto di imitare le sue virtù. Auguri a tutti! Allora grazie Paroco e adesso premiamo la prima paranza collegata al Comitato Azzurro che è quella di San Giovanni di Casavatore!